Supernova! 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 Ciao a tutti e coci in questo nuovo video in cui siamo sul Geninforum perché? Perché volevo mostrarvi velocemente le nuove informazioni che sono state rivelate nell'Inazuma Walker di ieri, nella trasmissione che ha fatto la level 5 proprio ieri verso l'una se non sbaglio e come avete visto sul canale io ho pubblicato il primo episodio dell'Inazuma Eleven Outer Code dove si vede Kevin all'Alpine, si vedono anche Shone e Aiden e altri membri dell'Alpine ora vi spiego in tutta la diretta che hanno fatto, quindi non solo quel mini episodio che avete visto sul canale che cosa è stato rivelato, oltre a questo fatto dell'outer code allora come ho annunciato il mese scorso, ho già fatto il post perché ho trovato, visto che ho una fonte diciamo inglese che prende tutte le informazioni, io ho tradotto il tutto e l'ho appena postato sul Geninforum vi lascio il link in descrizione allora ecco qui quello che ho scritto, cioè quello che ho tradotto come ho annunciato il mese scorso, il primo vero episodio di Inazuma Walker è stato trasmesso ieri su Youtube e Nico Nico se te la sei persa l'intera trasmissione ora è disponibile su Youtube e infatti è qua poi sfortunatamente niente di realmente nuovo è stato rivelato durante l'evento oltre al primo episodio di Inazuma Eleven Outer Code che poi vabbè potete trovare sul canale ma anche sotto in questa pagina nell'episodio precedente è stato confermato che Aurelia apparirà nella serie di Inazuma Eleven Ares all'inizio della trasmissione di ieri è stato rivelato il suo nuovo design ed è questo, più o meno simile a quello vecchio anzi no, forse è un po' diverso, sì come vedete a destra c'è quello vecchio, a sinistra quello nuovo vabbè, quella è una piccola cosa che hanno fatto vedere poi durante la parte successiva è stato chiesto ai fan di votare per una squadra che avrebbero voluto vedere nella serie di Inazuma Eleven Ares una vecchia squadra quindi di Inazuma Eleven 1 cioè c'erano quattro possibilità cioè la Occult, la Wild, la Brainwashing e l'Otaku c'erano queste quattro squadre vecchie di Inazuma Eleven 1 che i fan potevano votare se la volevano nella nuova serie ed è stata votata la Brainwashing io non ho votato perché vabbè votavano solo i fan giapponesi però ero indeciso tra la Brainwashing e la Occult anche la Occult avrei messo io, sapete? però forse va bene anche la Brainwashing, dai ci accontentiamo, meglio di sicuro dell'Otaku oppure della Wild che veramente non mi piacciono come squadre poi successivamente sono arrivati degli ospiti speciali hanno guardato il tredicesimo episodio della serie originale di Inazuma Eleven qui non si sa perché nello scorso, nell'episodio 0 di Inazuma Walker hanno visto il primo episodio del primo Inazuma invece qui hanno visto l'episodio 13 non si sa perché, ma è così, vabbè durante la parte dopo, la parte successiva hanno dato un'occhiata alla top 5 delle tecniche speciali preferite dei fan e guardate qui la prima è il Pinguine Imperatore numero 2 poi la mano di luce poi la panciata Otaku ma ci credete che i fan preferiscono la panciata Otaku a tutte le altre tecniche? cioè la terza è il risultato, eh bah, non capisco sta cosa vabbè, poi c'è il laser fotonico, la tormenta glaciale qui c'è una schermata sulle tecniche una breve classifica io vedo lì sotto nella lista anche Asokoni UFO vedo anche il tornado di fuoco Great Max Naoré energia della terra fuoco incrociato richiamo del lupo tiro radio comandato e vedo anche Double Shot questi che sto leggendo velocemente e ci stanno secondo me anche il tiro radio comandato è stupenda come tecnica poi la parte successiva di questa trasmissione è chiamata l'hanno chiamata Goto's Kitchen la cucina di Goto e per qualche motivo questo Goto ha fatto vedere come reclutare tre personaggi in Inazuma Eleven 1, 2, 3 la leggenda di Mark Evans cioè ha reclutato Aurelia Calb Stonewall e Sean Frost non si sa perché ma ogni tanto fanno anche queste cose vabbè e poi prima del primo episodio di Inazuma Eleven Outer Code è stata mostrata una retrospettiva dei Fubuki Brothers cioè fratelli Frost dall'anime della serie di Inazuma Eleven vabbè e poi finalmente ciò che tutti stavano aspettando cioè il primo episodio di Inazuma Eleven Outer Code cioè Sean e Aiden era il titolo di questo episodio e trovate qui il video lo trovate anche sul canale allora vi dico velocemente quello che è uscito fuori da questo episodio non farò subita però vi dico cosa è venuto fuori allora vi ripeto vi ricordo comunque che Outer Code è una serie una serie di brevi episodi cioè che in ogni trasmissione di Inazuma Walker viene mostrato un nuovo episodio di questo Outer Code questo primo episodio era focalizzato sui fratelli Frost e ha rivelato delle cose veramente sorprendenti cioè Sean Frost ha una diversa personalità rispetto alla serie originale in cui lui perse suo fratello da bambino ma in questo caso come sappiamo non è così cioè Aiden c'è è vivo e poi i fratelli Frost non sono più gemelli perché hanno fatto adesso non ho capito bene il motivo in modo da avere un rapporto senpai all'interno della squadra Aiden è un anno più giovane di suo fratello anche questa è una roba veramente incredibile poi c'è una ragazza misteriosa che fa parte dell'Alpine mi sa quella che fanno vedere alla fine dell'episodio di Outer Code e poi la parte su Kevin cioè che appare lì ho sbagliato a scrivere maledizione appare appare come membro di supporto dopo correggerò della squadra dell'Alpine poi l'ultimissima cosa che spiega un pochino questa apparizione misteriosa con la maglia dell'Alpine che neanche avevo ben capito però a quanto pare molti giocatori della Raymond che hanno vinto il Football Frontier hanno deciso di andare in altre scuole per alzare il livello della loro squadra di calcio non so per quale motivo ma è così cioè sembra sembra così la situazione infatti è questo il motivo per cui Kevin si trova l'Alpine comunque secondo me nell'episodio 26 quando rivedremo l'episodio 26 di cui hanno parlato nella scorsa nel volume 0 di Inazuma Walker sapremo qualcosa secondo me perché nell'episodio 26 anzi 27 perché 26 è l'ultimo della prima serie quando rivedremo l'episodio 27 secondo me vedremo un po' cosa è successo a quelli della Raymond che dopo aver vinto il Football Frontier dove sono andati comunque passiamo al prossimo episodio di Inazuma Outer Code perché il titolo è Oisama En cioè il nome del nome giapponese dell'orfanotrofio di Inazuma Event 2 il sole dell'infanzia se vi ricordate dove il signor Schiller trovò Xavier e lo trasformò in Xin poi comunque lo adotta da quella da quell'orfanotrofio lì e anche dove se non sbaglio da dove arriva Aitor nel Go se non sbaglio c'era Lina Schiller che porta Aitor dal sole dell'infanzia vedremo parleranno un po' di questo posto non so cosa diranno di preciso ma sono curioso e attenzione perché il prossimo Inazuma Walker verrà trasmesso il 9 dicembre quindi segnatevi questa data che tra circa un mese sapremo qualcosa di più qualcosa di nuovo io non vi do l'ora di sapere più novità possibili perché mi sta veramente incuriosendo questa serie comunque io vi ricordo che ogni volta cioè io sul Geniv posto qualsiasi novità che posso scoprire perché spesso vado in giro a cercare se ci sono novità e le posto sul Geniv controllate lì se invece le cose sono molto importanti ci faccio anche un video ad esempio Inazuma Walker o Outer Code porto sempre video sul canale su queste due serie chiamiamole così comunque è tutto per questo video perché vi ho fatto vedere brevemente tutto quello che hanno detto in quell'ora e mezza di forse anche due ore neanche di più non lo so di preciso comunque quelle due ore di live di trasmissione quindi allora direi che per questo video ci possiamo fermare ho due saluti da fare per questo video cioè ad Almex e Dennis Iacona un saluto e ci vediamo allora al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti